Angelo Cera, da destra o da sinistra l'Udc è sempre in prima linea per dare battaglia, lo farà anche in occasione delle prossime elezioni. Ma io sto sempre al centro, non sto né a destra né a sinistra, la mia collocazione politica è al centro, dietro lo scudo crociato, lì dove sono nato politicamente, dove papà mi ha portato, dove ho portato mio figlio e dove la storia continuerà, lo scudo crociato. Detto questo non mi sento di essere né di destra né di sinistra, se tu fai riferimento all'esperienza regionale quella è un'esperienza che morirà fra due anni e mezzo con la conclusione dell'esperienza Emiliano, non l'esperienza di centro-sinistra, l'esperienza di Michele Emiliano e del suo programma. Per cui, come dire, quando si vuole da parte dei giornalisti, davanti, da chi vuole creare una condizione o mi vuole creare una condizione di difficoltà, io dico che quella è un'esperienza che si concluderà nel momento in cui Michele Emiliano dirà Big Ben, stop, finito. C'era lei nell'uninominale, nel collegio di San Severo Lucera, si giocherà la sua permanenza a Montecitorio, un collegio dove c'è da sfidare, in pratica, il civismo di Capitanata, oltre che il Movimento 5 Stelle. Vi do una buona notizia. C'era, verrà eletto sia nel collegio uninominale che nel collegio plurinominale, il famoso listino. Noi eleggeremo, consegneremo alla provincia di Foggia due eletti, Angelo Cera e Paolo Dell'Erba e miauro che anche Maura di Salvia possa raggiungere le grandi soddisfazioni che merita. Consegneremo noi, noi dell'Udc, consegneremo due eletti alla provincia di Foggia e Dio sa che significa avere oggi degli eletti della provincia di Foggia.